La Befana passata in compagnia è la cosa più bella che ci sia Un po' casinara, oggi sarà una Befana tutto il tema, ciao! Ciao! Ragazzi, primi giri, come sono andato? Bene! Rossi, com'è stato il ritorno alla moto? Dura? È un po', eh? Mentre i ragazzi sono qua... Guardate le moto... Stati ragazzi, grandi! Allora, abbiamo fatto questa prova così oggi. Cambio moto. Rossi, differenze fra la tua e questa? È molto meglio che questa. È molto meglio questa. Perché è meglio, secondo te? È più morbida? È più morbida. Non so suggerire, perché? È morbida e mi piace. Ti piace di più? Eh! Le impostazioni sopra cambiano o è uguale? Cambia. Ale, come ti sei trovato con questa? Bene. Mi sembra che il freno è un po' più alto. È un po' più alto il freno rispetto al tuo. E invece come... come si muove la moto? Com'è? È più piccola della tua? È più piccola. Ok. Molleggia di meno. Molleggia di meno la tua. È più dura. Di davanti. Col davanti. Davanti molleggia di meno. Questo ragazzi è sensibilità. E? Gas? Invece il gas? Ditemi questo gas. Com'è? Va bene? Sì. Come mai non l'hai aperto perché ti avevo detto di andare piano? Ok. Anche te. Ok. Posto? Vai! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.